La via Cassia è una delle strade consolari romane. Non è noto con certezza chi fu il personaggio che ne curò la lastricatura, dandole così il nome, anche se è probabile si trattasse o del censore del 154 a.C. o del console del 127 a.C., entrambi chiamati Cassio Longino. Il suo percorso, tuttavia, già esisteva da tempo ed era stato realizzato dai romani attraverso la regolarizzazione di tratti stradali di epoca etrusca. La via nasceva poco fuori Roma, staccandosi dalla via Flaminia dopo Ponte Milvio e poi dalla Clodia all'altezza dell'attuale La Storta. Da qui proseguiva verso nord-ovest, attraversando il territorio di Veio e toccando Sutri, Chiusi, Arezzo e Firenze, che può essere considerata la meta principale della sua fase più antica. Da Firenze, la Cassia fu poi prolungata fino a Luni, dove confluiva nella via Aurelia. Dopo la fine dell'impero romano, la via Cassia fu contesa tra bizantini e longobardi. Questi ultimi riuscirono anche a controllarne diversi tratti, compresi nei territori da loro conquistati e in parte poi donati alla Chiesa. Quando ai Longobardi subentrarono i Franchi, la via cominciò ad essere percorsa dalle genti provenienti dal nord Europa e dirette a Roma, spesso per pellegrinaggio. Nacque così la via Francigena, ossia la via che nasce nella terra dei Franchi. Da via tutto sommato non particolarmente importante in epoca romana. La Cassia divenne così nel Medioevo una delle arterie stradali più trafficate e vivaci dell'intera Europa.